Eccoci, sono le 21.30 di giovedì 11 febbraio, quindi il terzo giorno, effettivamente come previsto, come data della dimarcia, questa giornata è stata un po' la più fastidiosa, fastidiosa nei limiti della sopportabilità, niente di davvero doloroso, semplicemente una certa fotofobia. Adesso ho messo in una stanza con piena illuminazione, ma in effetti un po' di fastidio mi dà, prima avevo sugli occhiali da sole, oggi pomeriggio sono stato buona parte al buio, riposato, niente di particolare, vedete gli occhi sono un po' arrossati e lacrimosi, nel senso che la reazione è di bruciore e lacrimazione, non è un vero e proprio dolore. Molti mi raccontavano, anche il medico mi ha detto di aspettarmi un dolore come da punzecchiamento dall'interno dell'occhio, ammetto che non ho sentito nulla di simile, ogni tanto più un fastidio a corpo estraneo come appunto quando hai delle lenti a contatto che sono, insomma, su da un po' di ore, si stanno cominciando a usurare e quindi danno fastidio. Si risolve mettendo le gocce con le lacrime artificiali, umettanti e si va avanti ancora un po'. Niente, non lo so, non so se è perché deve ancora arrivare alla fase brutta o se semplicemente appunto sono un miracolato di questo trattamento che ha reagito in modo abbastanza positivo. Le famose 12, il medico operava di 12 ore e io ho iniziato ad avere un po' questo problema di fotofobia oggi intorno all'ora di pranzo, quindi a luna e insomma siamo ormai alle 9.30 di sera, quindi le 12 ore passano a breve, diciamo per quando andrò a dormire fra poco. Confido che domani mattina dopo il risveglio più o meno dovrei essere in discesa, dovrei essere uscito dalla fase brutta e quindi pian piano poter riprendere qualsiasi tipo di attività. Le lenti protettive le devo tenere fino a lunedì prossimo, quindi questo weekend avrò ancora le lenti, però dovrebbe essere passata questa fase diciamo fastidiosa. Nient'altro, questo è l'aggiornamento, vado a rimettermi un po' più al buio e a rimettere gli occhiali da sole per proteggere un po' gli occhi. Grazie, buona serata, alla prossima, al prossimo aggiornamento.